Calabrisi, our country, our journey, la nostra terra, il nostro viaggio. E questo è lo slogan della nuova app che promette, con un accesso facile e una consultazione aggiornata in tempo reale, di costruire itinerari, cercare informazioni su monumenti, località turistiche, alberghi e ristoranti direttamente dallo smartphone. Un servizio prezioso soprattutto per i turisti che a migliaia arrivano da giugno a settembre a cercare ristoro sulle assolate coste della nostra regione. Si tratta di un progetto di marketing turistico territoriale che presuppone la possibilità di realizzare un circuito regionale di attività produttive, di fruizione di beni e servizi che serviranno poi alla scoperta del nostro territorio ma soprattutto a incentivare la mobilità, l'economia, la microeconomia ma cosa più importante è la scoperta appunto della Calabria. Pratica e di facile consultazione, l'interfaccia Calabrisi permette di accedere ai servizi e alle risorse altrimenti difficili da identificare e consente di colmare, almeno in parte, la lacuna dei servizi di informazione turistica poco presenti e in alcuni casi assenti sui territori. La start-up nata attorno al progetto è formata da tre giovani esperti di marketing, comunicazione grafica digitale, Gian Paolo Masciari, Valentina Pacetti e Maurizio Tassone. Loredana Colloca per l'AC News 24. Loredana Colloca per l'AC News 24. Loredana Colloca per l'AC News 24. Loredana Colloca per l'AC News 24.